Come verremo distrutti in meno di 6 minuti? Guardate bene, questi sono tutti i missili che hanno a disposizione Russia, Francia, Stati Uniti, eccetera. India, guardate le velocità, queste sono solo l'inizio, ci sono missili che vanno 10 volte più veloci, che in meno di 6 minuti raggiungono qualunque parte del mondo. Grazie. Grazie. Incredibile pensare cosa sono riusciti ad arrivare. Grazie. Cinese 31.000 km all'ora e russo 33.000 km all'ora. Incredibile.